Questo era uno step fondamentale da farlo prima dell'inizio delle piogge. I cumuli sono stati coperti e è stata fatta una regimazione per le acque superficiali in modo che comunque non ci siano pericoli di infiltrazione nelle faglie acquifere che è diciamo il rischio maggiore. Però ora con i cumuli tutti coperti a questo punto si può dire che i rischi nel breve non ci siano di nessun tipo. È il sindaco Nicola Benini a fare il punto dopo la messa in sicurezza dell'aria dell'impianto Le Rose al confine tra Levane e Levanella, le comune di Buccine. Si tratta dell'impianto che era stato sequestrato nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze per lo smaltimento illecito del Cheu, residui di lavorazione dei fanghi di conceria di Santa Croce sull'Arno. 25.000 le tonnellate di terre inquinate e scarti delle lavorazioni orafe stoccate nel complesso di frantumazione di inerti del polo produttivo levanese. I legali sia di TCA che di Chimet ne hanno approfittato per fare un sopralluogo nell'area nell'ottica di realizzare o comunque studiare, ipotizzare un intervento di bonifica. Questo perché appunto loro sono stati coinvolti in qualche modo nell'indagine perché avevano conferito materiali alla ditta indagata e quindi hanno dato la disponibilità a valutare un loro intervento diretto ovviamente poi riservandosi di rivalersi contro gli effettivi colpevoli di questa vicenda. Buone notizie anche per la collinetta che sovrasta l'impianto e nella quale i carabinieri forestali avevano accertato la presenza di inquinanti. L'ARPAT ha richiesto giustamente ulteriori analisi che sono state fatte nell'estate quindi dovrebbe essere questione di giorni diciamo l'esito e quindi la definizione dell'intervento anche lì per la messa in sicurezza. La notizia importante degli ultimi giorni è che comunque l'amministratore giudiziario ci ha in qualche modo comunicato che hanno comunque anche già le risorse per la messa in sicurezza della collinetta. Quindi una volta che le carte sono a posto anche lì si partirebbe speditamente per la messa in sicurezza.